Direi di partire, di partire col comprendere quello che stiamo andando a fare oggi. Io ho davanti a me persone che non hanno paura e che in realtà sono venuti qui in veste di guerrieri di luce. Perché oggi so che ciascuno di voi porta nel cuore l'intento di regalare qualcosa in più al pianeta Terra. E questo qualcosa in più è amore. Allora vorrei farvi un applauso io, non posso perché ho il microfono, fatevelo voi perché veramente siete persone che lo meritano questo applauso. Perché state ragionando con il cuore. Ciao Mirella, sono Raffaella. Ciao, siete in diretta Mirella. Ok, allora vi metto il microfono e qui abbiamo non so quante persone ma quanti siete? Tanti. Vi vogliono ascoltare, insomma, se ci volete dare un incoraggiamento. Va bene, vado. Guarda, non ci sarebbe bisogno dell'incoraggiamento perché qui in Italia sta succedendo delle cose. Da tutta Italia arriva gente nelle piante, dappertutto fanno l'occhio. È bellissimo. È una cosa intusiasmante. A Trieste arriva un sacco di gente da tutta Italia, per esempio. E fra l'anno tutti no? Mi sono detto, che bello. Un'abbraccione forte, coraggio e felicità a tutti. Io sono convinta che succederà un capovolgimento. Adesso non so se proprio in questo momento. In questo momento sì. In questo momento sì. E poi che duri. Che duri e va davanti e si sviluppi sempre di più. Certo, assolutamente. Grazie. Un abbraccio. Ciao. Dal punto di luce entro la mente di Dio. Affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio. Affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.